Nuovo ospedale di Padova, presentate dal Presidente Soranzo le analisi tecniche sulle aree dell'aeroporto Allegri e l'area di San Lazzaro a Padova Est. Questo studio preliminare risponde a tutti i quesiti che ci hanno stati richiesti e come credo tutte le istituzioni debbano fare in modo puntuale abbiamo risposto alla richiesta di contributo tecnico su quelle che sono gli approfondimenti creati al paesagistico, ambientale, viabilistico, di mobilità e anche di disponibilità delle aree con la sovrapposizione di tutti quei documenti approvati dal Comune, dagli studi comunicati dall'Università di Padova, dai criteri individuati dal Comune di Padova, dall'Università e anche dall'Azienda ospedaliera. L'abbiamo fatto una sintesi, sovrapposizione anche delle proposte compresa quelle di progetto e finanza con quelle che sono i dati catastali, le mappe catastali di proprietà. E ne è emerso lo studio che abbiamo presentato oggi e che abbiamo trasmesso ufficialmente il 18 gennaio all'Azienda ospedaliera e alla Regione. L'aeroporto sicuramente dà più, in termini di criteri di valutazione di tempistica e di meno complessità da affrontare, garanzia per la realizzazione del nuovo ospedale. Questi sono gli elementi tecnici che emergono, emergono perché in più l'aeroporto è completamente patrimonio pubblico, sono aree pubbliche con cui ci siamo e vogliamo confrontarci e cui crediamo che nell'interesse comune tutti faremo veloci. Sulla base di questo noi siamo convinti che l'aeroporto possa dare più garanzie perché quello che noi interessa è che noi oggi consegniamo questo lavoro, lo consegniamo affinché tutto quello che si poteva approfondire è stato fatto, affinché domani si decida e si parte. Perché quello che noi interessa è che dopo 20 anni che si parla di ospedale a Padova, dopo che il 2013 aveva individuato i criteri e le modalità e poi si sia individuato Padova-Ovest successivamente si prevedeva che nel 2015 ci fosse il cantieramento di Padova-Ovest e siamo nel 2016 e Padova-Ovest non c'è più. Alla luce di questo noi vogliamo partire, noi vogliamo l'ospedale, lo vogliamo in tutti i modi realizzare, io sono un sindaco, non faccio le chiacchiere, cerco di fare sempre i fatti per realizzare le opere. dopo aver già ottenuto dal Ministero della Difesa la disponibilità delle aree, anche quelle dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, visto che oggi alcune particelle delle aree dei mappali sono a disposizione dell'Einac, la quale ha le aree dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, abbiamo chiesto al Ministro Graziano Del Rio se vi fosse motivi ostativi che potessero non dare la disponibilità di queste ulteriori aree o quelle del suo Ministero. Abbiamo ottenuto una risposta, è stata trasmessa già oggi al Comitato Rezaia, l'abbiamo ottenuta molto chiara, ha comunicato che non c'è nessun motivo ostativo per il Ministero ad aderire a questo progetto se i padovani lo chiedono e se i padovani lo ritengono prioritario. Io credo che sia così e quindi credo di aver come provincia dato ulteriore contributo, documentato, quindi fatti e non chiacchiere.